Ciao a tutti, oggi tutorial ultra veloce su come realizzare uno smokey eye classico nero, visto che piace a tantissime di voi. Io vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo. La prima cosa che vado a fare è stendere su tutta la palpebra mobile una matita nera. Questa qui è la crayon call di Lancome. È una matita casual, però non la trovo poi così tanto morbida, quindi mi piace particolarmente perché diciamo che non impasta troppo. Sicuramente quello che vi consiglio è di scurire il più possibile tra le ciglia superiori. Ricordatevi che negli smokey non devono esserci buchini bianchi, infatti anche qua dentro poi dopo andremo a fare riempimento. Con la matita rimanete proprio fino a dentro la piega, quindi qua dentro la pieghetta, ok? Senza andare oltre perché adesso prendiamo un pennello del genere o comunque un pennello abbastanza fitto, questo qui è il 223 di Zoeva. E andiamo a tirare leggermente i bordi. Vedete cosa faccio io? Picchietto in questo modo e comincio ad allargare la mia sfumatura, però non esagero perché dopo voglio che si veda bene anche il marrone. Ma potete usare qualsiasi altro colore, non per forza il marrone, diciamo che è basico quello che sto facendo in questo momento. Però potete usare il rosa, potete usare il blu, potete usare qualsiasi altro colore. Riprendo la matita e bordo la rima inferiore. Poi riprendo il pennello e sfumo ancora. Mi raccomando l'angolino esterno collegate sia la parte superiore che quella inferiore. Prima di passare all'ombretto nero, cosa faccio? Prendo una terra o un marrone intermedio e faccio la mia transizione. Quindi pennello ampio, questo è il mio solito preferito di Zoeva che è il 228 Luxe Crease. E piano piano sfumo, movimenti circolari. Siccome questo è un marroncino abbastanza tenue, mi aiuterà poi dopo a sfumare un marrone più scuro e ovviamente il nero. Lo porto giù. Ora passiamo finalmente al nero. Prendo un nero opaco, molto intenso. Ricordatevi di sbattere sempre l'eccesso perché altrimenti vi cadrà abbastanza prodotto sul viso. Infatti per quanto riguarda gli smoky vi consiglio sempre di fare la base dopo gli occhi. In generale io la faccio sempre dopo, però particolarmente con gli smoky. Quindi tampono il nero dove abbiamo messo precedentemente la matita. Così la andiamo sia a fissare sia a renderla più intensa. Per quanto riguarda poi la forma che volete dare al vostro smoky, quello dipende un po' da voi, dal gusto personale. C'è chi preferisce tenerlo un po' più tondo in questo modo, c'è chi come me preferisce comunque allungarlo un pochino perché secondo me per la mia forma d'occhio sta molto meglio, un pochino più allungato. Dipende sempre dai vostri gusti, potete giocare. Con un pennellino angolato piccolino porto lo stesso nero anche sulla rima inferiore. Pennello di Zoeva da sfumatura, un pochino più piccolo e fitto, numero 231 Lux Petite Crise. E prima sfumo il nero così com'è, senza alzarmi troppo. Quindi vedete che piccoli movimenti che faccio, piccolini piccolini. Poi prendo questo marrone scuro dalla Carnival 3 di Vieto Perfetto e creo finalmente la mia sfumatura che va dal nero scuro al marrone scuro al marroncino intermedio chiaro. Riprendo il pennello più ampio e comincio ad allungare un pochino verso l'esterno. Comunque, come prima vi dicevo, potete usare anche il grigio per esempio per fare questo tipo di smoky, che non è male. Prendo un color panna e lo applico sia qui nell'angolo interno, a sfumare, sempre a sfumare, e anche sotto l'arcata sopraccigliare. Matita dentro, dovunque, sopra, sotto. E mi raccomanda, maggior ragione se siete molto 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 chiare, biondissime, occhi chiarissimi. Non lasciate buchini, spazi vuoti. Lo smoky deve essere smoky. Applico un filino di eyeliner, questo è Stereal Liner di Nabla. Il motivo per il quale io non faccio spesso gli smoky è perché odio queste pieghe, non so se le vedete. E anche se le ripasso all'infinito, restano, restano, restano. Come mascara ultimamente sto testando il Lushy Doll di Lancome, però non lo so, mi piace o non mi piace, non lo riesco a capire. È una formula molto molto pastosa, sembra quasi che non ci sia prodotto, non lo capisco. Mi piace perché non fa grumi, curva le ciglia, però non allunga tantissimo e mi sembra che faccia molta fatica. Ok, proviamo a metterle insieme. Sono le Sasha di Uda. Le ho comprate e ormai uso sempre queste perché intanto sono bellissime. Qui perché vi dirò, io non sono una tipa che acquista 20.000 paia di ciglia finte. No, io ne acquisto una, due. Quando sono arrivate al limite, poi le butto e le cambio. Indovinate nel frattempo che si asciugano le ciglia cosa faccio? Esattamente ripulisco i contorni. Fatelo sempre, che vi aiuta a dare tutto un senso di ordine al make-up. Ho deciso che voglio mettere qualcosa di luminoso, sia nell'angolo interno che sotto l'arcata sopraccigliare. Quindi ho pescato un ombretto color champagne, questo qua. Lo andrò ad applicare sia sotto l'arcata sopraccigliare che nell'angolo interno per dare un punto luce, fare un punto luce. E questo è il risultato. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere giù con un commento, con un pollice in su. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!